Ho sempre stato un mio desiderio, aiutare le altre persone. Ti è capitato anche di aiutare altre città in esperienze analoghe? No, questa era la prima volta. Era la prima volta e lo riparei. L'episodio che ti ricordi con più affetto? L'episodio che mi ricordo con più affetto è il fatto di collaborare. Quando abbiamo collaborato tutti insieme, con le palle, tipo catena di montaggio. Quello mi è rimasto molto.